Qualcuno è stato risparmiato dalla campagna del governo ungherese che allude ai legami tra gli eurodeputati e il miliardario George Soros. Ai microfoni di Euronews il capo del gruppo popolare al Parlamento Europeo Manfred Weber si dice rammaricato di non essere stato annoverato tra i nemici di Budapest nonostante abbia denunciato la violazione dei valori europei nel paese.